Desideri coscienti, desideri inconsci, parte quinta. Care amiche e cari amici, in questi video stiamo trattando il tema del desiderio, ma anche del rapporto tra maestro e studente, tra maestro e allievo. E, come abbiamo visto, la ricerca interiore è un percorso intimo e personale, quindi insegnamenti generici, generalizzati, per quanto possano essere profondi, anche universali, non funzionano. Per questo ci vuole un maestro, perché l'insegnamento deve essere formulato e comunicato in un modo intimo e personale per quel determinato studente. E il maestro deve essere in grado di parlare al cuore dello studente per attivare il processo trasformativo all'inizio e per portarlo avanti in seguito. E quindi lo studente poi deve rapportare l'insegnamento con quello che è la sua vita, e fatta anche di preoccupazioni, conflitti, e deve rapportare con l'esperienza concreta, altrimenti non ne trarrà nessun beneficio se le cose si sanno solo teoricamente. Il bravo maestro, quindi, si interessa dei singoli casi. Ci vuole un rapporto personale. E però bisogna fare attenzione a una cosa, che, ad esempio, il maestro potrebbe stabilire anche un rapporto personale, intenso con un determinato studente, ma continuare a parlargli con una prospettiva troppo generale, non appropriata al suo livello di coscienza e alla situazione del momento. In quel caso il maestro sta sbagliando. Per esempio l'insegnante potrebbe proporre all'allievo di, non so, concentrarsi sulla questione della presenza del sé, o sulla sua eventuale assenza, no? E magari quell'insegnamento non può essere adatto in quel momento per quella persona, perché magari quella persona in quel momento non ha bisogno di stare lì a fare i voli pindarici, a interessarsi del sé, dell'io, o che, ma magari ha bisogno in quel momento semplicemente di una parola di conforto e di incoraggiamento. Per questo l'insegnante deve preoccuparsi di chi ha di fronte, di quelle che sono le sue esigenze, di quelli che sono i suoi desideri, le sue difficoltà, e rendersi conto, come dicevo, se poi le aspirazioni, i desideri, i comportamenti dell'allievo sono in sintonia col suo ego o se tendono verso la stella del nord, verso il centro. Tante volte, ho visto per esempio, sul forum che un amico, non so, esprime un dolore per qualche motivo, no? Per cui si sente male e sente il bisogno di condividere questo malessere e c'è magari chi gli risponde osservalo, no? Se sta male, osserva il malessere. Per quello ci vuole il maestro. Perché rispondere in questo caso osserva il malessere non è una cosa sbagliata. Anzi, è la cosa giusta. Ma bisogna vedere se quella persona in quel momento è in grado di recepirla. Magari quella persona in quel determinato momento ha semplicemente bisogno di una parola di incoraggiamento. Magari di semplicissime parole che potrebbe sentire anche da chiunque. Stai su, non ti preoccupare, dai, fatti forza, so che sei in gamba riuscirai a superare pure questa. Ha bisogno di questo tipo di parole in quel momento. E quindi sentirebbe l'incoraggiamento all'osservazione come qualcosa di totalmente estraneo a quello che sta vivendo. Ecco perché ci vuole il maestro. Quello studente che ha ripetuto una cosa che ha sentito tante volte, osserva, osserva il dolore, non ha detto una cosa sbagliata, ma appunto è uno studente e non un maestro. Quindi gli ha detto una cosa esatta, ma nel momento sbagliato. Per questo serve il maestro, il sangha, tutta, questa interazione globale. Dunque, il maestro deve cogliere quello che è cruciale in quel momento per lo studente. E lo studente in questo modo avrà la possibilità poi di praticare questo insegnamento. Che caso, per esempio, che ho fatto, se uno gli dice osserva, quello non è proprio in condizione, perché si trova in tutt'altro livello di coscienza e stato d'animo, anche quel suggerimento giusto è, come vi dicevo, nel momento sbagliato non serve, è totalmente inutile. Quindi, se quell'individuo, quella persona in quel momento sente di non valere abbastanza e non è in grado di abbandonare il suo attaccamento e non può mettersi ad elucuburare sui massimi sistemi, serve una parola semplice. una semplice carezza in quel momento, no? Ennesima conferma che l'insegnamento non può essere impartito in modo generico. E un insegnamento universale, per quanto può essere profondo e vero, deve sempre adattarsi alla singola studente. e da questo punto di vista poi c'è da fare un discorso particolare su quello che è Krishnamurti. Perché eccolo qui, Krishnamurti. Capita al nostro caso, per il discorso che voglio farvi. Krishnamurti è insegnato per 50 anni. Un certo tipo di approccio alla crescita spirituale. L'insegnamento trattava essenzialmente dello sviluppo della consapevolezza non centrata sull'io e sulla mente. Ossia, se una persona presta attenzione ai processi della mente, a come è continuamente focalizzata sulla mente, questa persona svilupperà una consapevolezza libera, indipendente da quello che è il tempo e la memoria e pone fine ai conflitti e alla paura e alla sofferenza. C'è anche in vari libri dei discorsi di Krishnamurti che si intende la propria libertà dalla paura, mi sembra. Comunque, nei discorsi Krishnamurti descrive in modo brillante la consapevolezza basata sul vuoto che è qualcosa di importante e molto probabilmente la spiegazione che lui dà è anche una spiegazione ad altissimo livello, molto coerente ma per nulla efficace, questo è il punto, perché lui parla di una verità molto profonda, una delle più profonde possibili per la mente umana, ma essendo contro per esempio la meditazione, l'introspezione, l'affidarsi a un maestro, che situazione crea? Che situazione crea? Che non è mai esistito un realizzato per l'insegnamento di Krishnamurti, perché diventa totalmente incomprensibile l'insegnamento di Krishnamurti? Esattamente l'esempio che vi facevo prima, quando l'allievo dice a un altro allievo gli dice osserva questa tua sofferenza e quello magari in quel momento non è in grado di osservare la sofferenza, ha bisogno di altro e così l'insegnamento di Krishnamurti è indubbiamente un insegnamento elevato ma che non ha senso se le persone poi è totalmente distante da quella che è la vita delle persone esattamente come se voi sapete che io insegno ai bambini delle elementari se io chiamassi un bravissimo insegnante di matematica universitario a fare una lezione ai bambini se questo matematico non parlasse in una terminologia accessibile ai bambini lui potrebbe dare un insegnamento eccelso ma non accessibile ai bambini che ai bambini non servirebbe assolutamente a nulla ed è quello che accade con l'insegnamento di Krishnamurti oltretutto con un insegnamento che è profondamente contraddittorio perché ha ribadito duemila volte che le parole non servono però non ha fatto altro che parlare che i guru sono inutili e non ha fatto altro che comportarsi come un guru creava un'attesa da guru prima di venire si metteva in posizione elevata e isolata rispetto all'uditorio quindi anche un insegnamento molto contraddittorio però un insegnamento ripeto ottimo come ottimo può essere un insegnamento di matematica ma incomprensibile ai bambini quello che vi stavo dicendo dunque eccolo Krishnamurti quanto è stato efficace niente niente che frutti ha portato frutti positivi che ha potuto avvicinare anche delle persone con i suoi discorsi accattivanti poi usava il metodo maieutico di Socrate e Bottegman ma oltre questo non è andato perché non c'è nessuna trasformazione se possono leggere tutti i libri di Krishnamurti e tutti i discorsi di Krishnamurti non c'è un bricolo di trasformazione nelle persone ci può essere un ragionamento mentale che resta tutto sul piano mentale esattamente quel piano che Krishnamurti diceva assolutamente essere inutile quindi quanti hanno compreso l'insegnamento di Krishnamurti non se ne sa neanche un esempio esiste al mondo di questo che potrei dire quanti bambini capiscono l'insegnamento di un esperto matematico universitario che gli parla in quel tipo di terminologia tecnica che comprendono gli universitari perché è successo questo con Krishnamurti il suo insegnamento proveniva dalla sua esperienza personale molto probabilmente lui era in ottima fede anzi ne sono convinto anche se non ha mai risolto il conflitto con il padre perché quello è stato il suo detestare l'autorità ancora pochi mesi prima di morire parlava male della chiesa cattolica parlava male dell'autorità tutto perché ha avuto un abbandono da parte paterna nell'infanzia nei fatti che non ha mai risolto perché non dovete pensare che un illuminato sia un essere tipo un superman e questo conflitto era restato risolto erano persone che mentalmente comprendevano pienamente Krishnamurti ma solo a livello mentale altri invece ma già avevano un livello di realizzazione avanzata e allora lo potevano capire non solo a livello mentale ma anche comprenderlo ma perché già erano a un livello avanzato ma se una persona fosse partita dall'inizio ascoltando è inutile la mediazione è inutile l'insegnamento sono inutili maestri sono inutili e poi non ti dà gli strumenti l'unica cosa che diceva è quello che dico però non lo dovete sentire mentalmente lo dovete comprendere lo dovete comprendere e vabbè ma come si fa a comprendere tutti quelli che meditano sanno perfettamente anche dopo anni che meditano che certi livelli di comprensione sono impossibili senza ore e ore giornate e mesi di meditazione senza questo tipo di preparazione quindi l'insegnamento di Krishnamurti sebbene fosse anche abbastanza semplice era irrilevante per le persone che lo ascoltavano non riuscivano a comprenderlo proprio perché non si affidavano all'esperienza di un maestro avevano bisogno di capire molte cose prima il discorso ma guardate quanto lavoro facciamo con il sangue sull'immagine di se stessi sulle emozioni sulla relazione con le emozioni sulla relazione con gli stati d'animo negativo sulle le tecniche per superare questi stati d'animo e poi il discernimento se una persona per un periodo ha bisogno di essere eseguita di fare un piccolo periodo di terapia o meno oppure persone che non possono avvicinarsi alla meditazione perché è devastante per alcune persone se hanno problemi seri dal punto di vista psichiatrico tutto questo discernimento Krishnamurti non lo fa e dice il suo insegnamento totalmente generalizzato dice a tutti la stessa identica cosa ascoltatemi cose ma non ascoltate solo quella mente dovete comprendere qualcosa di impossibile tant'è vero che le parole non penetrano nei cuori le persone non si trasformavano nessuno si è mai trasformato con l'insegnamento di Krishnamurti perché? perché non si rapportava alle vite personali non fatevi ingannare dai nomi famosi l'insegnamento è personale non esiste un insegnamento generico ma guardate Buddha Buddha insegnava personalmente ad alcuni in particolare tutti hanno fatto così Gesù non è che parlava a tutti i discepoli compresi no prima ha scelto i suoi discepoli poi raccontava le parabole a tutti ma le spiegava solo ad alcuni poi che erano i suoi discepoli e sapeva che anche quelli non avevano livelli di comprensione uguali ma ce n'era solo uno che lo comprendeva a fondo e quindi c'era un rapporto personale non c'era un insegnamento così generico e generalizzato e Krishnamurti invece era convinto che il suo insegnamento fosse semplice e diretto secondo lui una persona poteva ascoltarlo e capirlo ma così non era lui parlava di una trasformazione istantanea se si comprendano le sue parole ma nei fatti nessuno ha avuto questa trasformazione istantanea nessuno ascoltando Krishnamurti si è malzato in piedi e ha detto ho capito Yudu ho capito ora non mi serve più nulla stop con la ricerca non è mai accaduto questo non è mai accaduto cosa che ad esempio è accaduta in presenza del Buddha con Makassio per il famoso insegnamento del fiore l'insegnamento silenzioso del Buddha che è l'origine del buddismo zen e Makassio fu l'unico quel giorno a capire quell'insegnamento a lui diretto in realtà che era un insegnamento generale ma Buddha sapeva che non sarebbe stato capito dai molti ed era quel giorno destinato appunto a Makassio il punto vale che Krishnamurti non teneva in considerazione lo stato di coscienza della maggior parte dei suoi ascoltatori e quelli andavano lì pieni di conflitti irrisolti di interessi di ogni tipo e non possedevano quel tipo di consapevolezza che è appunto la preparazione che ti serve per raggiungere a una vera comprensione Krishnamurti chiedeva al suo ascoltatore niente di meno che abbandonare il loro io e il loro senso di identità in quel momento ma chiunque abbia provato a meditare anche per dieci giorni di seguito sa come sia impossibile questa cosa impossibile dunque un insegnamento che cadeva vuoto quando il senso dell'io governa la mente governa il modo dei pensieri è il centro della nostra attenzione il famoso pensiero compulsivo come si fa a serradiare semplicemente ascoltando un discorso di uno che oltretutto ti dice se lo capisci mentalmente non serve è una persona che è abituata a filtrare tutto per la mente e quindi non era facile per un ascoltatore capire Krishnamurti anzi era incomprensibile tutt'a più poteva uscire dall'incontro dicendo ah è stato piacevole un piacevole discorso ha detto delle belle parole ed era incomprensibile anche per lo studente medio perché le parole non entravano nella esperienza delle persone ma perché per esempio nel sanga i miei allievi mi dicono ah non sono più in continuazione danno queste testimonianze non sono più quello che ero l'altro anno e non sono più quello che ero di due anni fa medito solo da otto mesi e già sento una trasformazione in atto incredibile medito da due anni sono un'altra persona tutto altro tipo di interessi le mie azioni si orientano in tutt'altro modo ma perché perché è un insegnamento personalizzato e vi ho dimostrato prima già che ripetere anche le mie parole che ho detto magari a una persona in un momento specifico a un'altra persona e sull'altra persona magari non hanno effetto quanto ho detto le parole di un maestro se semplicemente ripetute non hanno effetto perché manca quel tipo di comprensione di intuizione legato a livello di coscienza di chi ti sta davanti quindi questo insegnamento di Krishnamurti che alla fine era semplice essenziale ma ripeto un grande insegnamento io non voglio sminuire l'insegnamento come di un grande professore di matematica se venisse ospite ai bambini non è che e parlasse però in termini universitari io non è che sminuirei quello che dice o la sua persona semplicemente sta facendo una cosa incomprensibile per quel livello di consapevolezza e di coscienza dei bambini in questo caso una conoscenza mentale dunque l'insegnamento impossibile che ascoltava Krishnamurti non si trasformava dicevo concordava c'è stato anche chi nel nostro sanga lo ha incontrato Krishnamurti quindi concordava in apparenza sul fatto che il vuoto e la consapevolezza privi di io sono cose meravigliose ma dentro di sé non lo sapeva realmente non l'aveva mai metabolizzata questa cosa era impossibile perché mancava lo strumento è come se io dicessi dovete camminare su un filo che è teso su un precipizio tra una montagna e un'altra avete uno strapiombo di 500 metri voi dovete farlo e basta non vi preoccupate se siete concentrati ce la fate non c'è bisogno di preparazione di stare lì di sentire persone esperte perché bisogna essere presente a te e se stesse ma questa cosa non va capita mentalmente va praticata quindi prendi inizia la camminata sul filo e vai vai l'esito macabro di questo insegnamento tutti possono capirlo no? e per fortuna l'esito di Chris da Molti non era dannoso anche se molto danno ha fatto se molto danno ha fatto perché ha creato parlando a un occidente individualistico e dove c'è questa esaltazione no? dei dio cazzi miei e ognuno dopo aver ascoltato diceva sì i maestri sono inutili le istituzioni sono inutili le religioni sono inutili i testi sacri sono da bruciare e i risultati poi ciascuno li vede nella sua vita perché allora tante persone hanno continuato a seguirlo eh? Chris da Molti perché si sentivano attratti da questo maestro e alcuni quelli più avanzati avevano anche avuto una fugace visione di uno stato di chiarezza e di pura coscienza no? in gran parte erano studenti in buona fede eh? attirati alcuni dalla fama del maestro eh e molti dal siccome Chris da Molti era chiaro ripeto non è che diceva cose difficili allora magari pensavano di poter raggiungere una realizzazione attraverso le sue parole no? ma come vi ho detto Chris da Molti non si preoccupava del pensiero compulsivo delle emozioni della depressione delle immagini di identificazione dello studente e quindi ha continuato con questo insegnamento totalmente inefficace gli unici che hanno potuto trarre beneficio come ho detto erano le persone che già erano a livello avanzato ma è sempre una cosa poi molto relativa anche questa è che se erano a livello avanzato vuol dire che già avevano seguito un maestro e che avevano un un maestro e quindi alla fine resta sempre un'esperienza relativa un'esperienza di libertà quella proposta da Chris da Molti certo ma totalmente lontana dall'esperienza della maggior parte dei suoi ascoltatori della vita quotidiana perché tu hai delle cose che devono praticare nella vita quotidiana e non gli puoi dire stai tranquillo andremo in paradiso un bel giorno no? quello sta male è stato mollato che ne so da una donna gli è morto il miglior amico non gli posso dire stai tranquillo stai in paradiso il tuo amico un giorno ci staremmo anche noi è bella consolazione oppure osserva il tuo malessere no? magari quello ma ti dà pochi mesi dici osserva si è morto il tuo amico ma osserva no? quello che accade è totalmente sballato è giusto l'insegnamento ma è sballato il momento e se no i maestri non avrebbe senso tutti potrebbero essere maestri allora questa esperienza di Krishnamurti era parte dell'essere di Krishnamurti e di quello parlava e quello manifestava e quindi esattamente il suo livello era molto avanzato ma c'è questo problema risolto molto probabilmente dell'abbandono paterno che poi ha avuto ripercussioni su quella che sta tutta la sua vita anche tutto il suo insegnamento fondamentalmente anti-autoritario eh? lui partiva da una prospettiva di pura consapevolezza ma quando si riesce a ottenerla? è una prospettiva di pura consapevolezza eh? di abbandono dei desideri del della penetrazione nella pura consapevolezza ma quando si riesce a far questo senza sudare tutti i santi giorni voi i miei amici del sangha sanno benissimo e quindi concludendo un maestro parla a uno studente dalla prospettiva dello studente altrimenti non è un maestro e se è un maestro serio non gira per il mondo aprire scuole 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 adesso ho fatto il nome di Grinamotti non mi va di fare il nome di un altro maestro famoso ma mi diceva un amico siciliano sono stato al suo centro perché fa capo al suo nome e così poi ne fatti in questo centro non c'era un maestro praticamente si meditava semplicemente guardando il muro e basta nessuno dava indicazioni nessuno e allora dov'è la serietà? se poi quelli che frequentavano questi centri non avevano mai un insegnamento individualizzato quindi spero amici di essere stato chiaro tra l'altro con il sangue sto in un rapporto non da tra virgolette guru è il mio ruolo da maestro l'ho detto tante volte come a scuola è chiaro io sono il maestro i bambini sono i bambini che devono apprendere ma non per questo mi sento superiore ai bambini così io sono il maestro e gli amici del sangue sono gli allievi che imparano attraverso me ma mai mi sentirei superiore a loro per questo vi dicevo non mi sento un guru tra virgolette perché guru è una parola orientale che ha un preciso significato e legato a quel tipo di cultura io mi sta bene che mi considerano un fratello maggiore o a seconda dell'età un nonno l'ho detto tante volte io li considero miei figli miei fratelli e tutti insieme si avanza e si cammina a grandissima velocità un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo Cosmo Cosmo